L'importanza di avere un centro avanti come Michele Marconi, il bomber toscano, si sta caricando l'avellino sulle spalle e sta provando a portare i lupi in una posizione di classifica più consona ai bianco-verdi. Un giocatore voluto fortemente da Enzo De Viti e Massimo Rastelli, la rieta ex-pese Alessandria, sta ripiegando in pieno la fiducia della società, portando all'ombra del partenio in particolare al modo il suo marchio di fabbrica, il colpo di testa. Il numero 31 dei lupi si sta dimostrando molto abile nel gioco aereo, sia dentro l'area avversale che fuori dalla stessa. Dopo una prima parte di stagione al sud Tirolo, dove non è stato protagonista, sta dimostrando in Irpinia tutto il suo valore, confermando anche grande abilità del gioco di sponda, dote che spesso, in un passato più o meno recente, ha spinto diversi addetti ai lavori a paragonarlo a Giampaolo Pazzini, anche se non esita a calciare sia di destro che di sinistro. Sette partite giocate, quattro goal realizzati, 610 minuti effettivi con la maglia dei lupi, una rete ogni 153. Nella gara contro il Foggia ha siglato un gran goal di testa, il terzo dopo quelli ai danni di potenza, ma contro i satanelli ha messo lo zampino in tutte e tre le reti. Infatti il goal di D'Angelo è nato proprio da un suo colpo di testa, sbattuto sulla traversa. Così come suo è stato l'assist per la rete vittoria realizzata da Di Gaudio al photo finish. Lo scorso anno Pietro Gemmello nei suoi mesi a Catanzaro siglò otto reti in 16 partite, playoff compresi, quattro alle gare dei calabresi nella post-season, un giocatore del centro avanti di massa che può essere importantissimo per coltivare il sogno in questa finale di stagione, ma che di sicuro il prossimo anno, qualora si ripartisse dalla Lega Pro, rappresenterebbe un importante valore aggiunto. Altro grande protagonista in questa stagione, altalenante dei lupi Fabio Tito, l'esterno che è passato dall'essere in lista di sbarco a nuovamente punto fermo dei biancoverdi, ha raggiunto quota 100 con la maglia dell'Avellino, premiato dal presidente D'Agostino per lui in questa stagione, due gol nel derby contro la Turris e quattro assist. Dopo lo scorso anno costellato da alti e bassi, lo stabiese si sta ritrovando, in totale vanta 7 reti e 17 passaggi vincenti con la maglia biancoverde, del resto è uno di quegli elementi che anche nei momenti difficili mostra attaccamento e carattere, l'auspicio che possa essere ancora un giocatore fondamentale sia in fase realizzativa che per assist decisivo. Grazie